Ciao a tutti amicissimi di Alessante Accord, oggi è veramente un video speciale per un prodotto davvero, davvero speciale. Intanto colgo l'occasione per un buon ferragosto in ritardo, mi scuso tanto, e vi invito anche ad iscrivervi al contest che ho fatto nel precedente video. Fitfrancesco Sniaolin del canale Snugo, intanto lo ringrazio davvero tanto, potrete aggiudicarvi l'invito per ricevere il One Plus Two. Eccola qua la mascotte, lascio qua l'invito, questo non è il video adatto. Oggi siamo davanti a una novità a livello mondiale, mai nessun brand aveva azzardato così tanto. All'altronde il titolo vi avrà già fatto capire di cosa stiamo parlando. Touch P5 ragazzi, sì, TP-Link, Touch P5, il primo router marchiato TP-Link con touchscreen on board. Se credete che io sia pazzo, beh allora non vi resta che vedere questo mio nuovissimo video, anzi il primo video a livello global. Perché su YouTube praticamente non c'è nulla, questa è la prima review di questo nuovissimo TP-Link Touch P5. Ragazzi mettete un like al video, condividetelo con più amici possibili e se avete domande o dubbi commentatelo pure senza nessun tipo di problema. Bene, mettete un like al video e sigla! Ed eccoci qua con il TP-Link Touch P5. Andiamo a vedere un attimo la confezione di vendita. Molto pubblicizzato il fatto che è una C19, queste sono le features che andremo a vedere dopo. Bella la serigrafia, la foto lucida nella parte frontale, ma andiamo a vedere un attimino dietro il prodotto. Questa è un'immaginetta che vi spiega le possibili modalità di utilizzo in casa. Vedete i PC sono connessi alcuni in 2,4 GHz, altri in 5 e la cover di tutta la casa è fatta. Andiamo a vedere un attimino la confezione dall'interno. Questo è il Touch P5, ve lo mettiamo un attimino da parte. Ci sono 3 antenne ad alto guadagno, 5 dBi e anche 3 antenne interne da 2,4 GHz. Questo è l'alimentatore da parete, io ho dovuto applicarli un adattatore perché la spina è americana. Non vi preoccupate, nella confezione di vendita italiana ci sarà la spina quella corretta. L'output è 3,3 A, è sempre un 12 V. Quindi devo dire che è abbastanza ingente la richiesta di energia elettrica da parte del Touch P5. All'interno abbiamo anche una patch Ethernet da 50 cm e poi ci sarà la varia manualistica che in questa confezione non è presente. Andiamo a vedere un attimino il design del Touch P5. Le antenne non sono montate perché voglio farvi vedere la possibilità di sostituirle. I connettori sono di connettori di tipo RPSMA, questo è il buchettino per l'alimentatore, USB 2.0, un design davvero bellissimo e qui abbiamo anche una porta USB 3.0. Vi faccio vedere le porte Gigabit Ethernet poste qui con l'alluminio davanti quindi ben curate e la porta One perché questo è un router. Non vedete la porta chiaramente a DSL perché non è un modem router. Questo è il forellino per i reset. Andiamo a vedere un attimino il design di questo prodotto. Eccolo qui, questa è l'etichetta posta dietro, Touch P5, 3.3 A e quant'altro. Andiamo a vedere un attimino il design del prodotto. Come potete vedere, ti voglio dire un design davvero molto bello perché vedete è praticamente tutto serigrafato. con logo TP-Link anch'esso serigrafato. È davvero bellissimo ed è curvo, vedete? Non è, diciamo, diritto. È curvo con il touchscreen appena appena sollevato qua e qua sotto, una volta che dopo ve lo faccio vedere acceso, ci sarà una luce blu che devo dire è davvero molto bella. Bene, non ci resta che andare a vederlo acceso, anzi prima vi parlo di specifiche tecniche. Benissimo, intanto che il TP-Link si accende. Ho montato anche le tre antenne per farvi vedere com'è davvero bellissimo. Vedete la luce qua blu? Per quanto riguarda chipset, per quanto riguarda il comparto wireless eccetera, il comparto LAN, vi metterò poi in descrizione tutti i vari dettagli. Vi voglio dire che per quanto riguarda la rete 2,4 GHz abbiamo massimo 600 Mbps di velocità, mentre invece 1300 Mbps per quanto riguarda il comparto della 5 GHz. Ma adesso credo che sia ora di andare a vedere un attimino questo nuovissimo router nella main feature, ovvero il touchscreen, quindi vi delizio un po' di questo prodotto. Intanto andiamo a vedere l'interfaccia, vi faccio vedere che è davvero ben definito. Innanzitutto è molto facile da configurare. Questa è la GasNet, una volta che va in standby basta fare uno swipe e comunque lui si attiva. Abbiamo tre schermate, di cui la prima che è riguardante le reti wireless e vi dà già diciamo uno storico di quello che è la connessione, quindi vi dice 2,4 GHz, 5 GHz, l'orario e quant'altro. Poi una volta che è connesso alla rete vi darà le informazioni corrette, vi dice anche quanti dispositivi sono connessi. Andiamo a vedere nella prima facciata, c'è il Quick Setup che è davvero facile, ho scelto la password admin. Qui vi farà settare la regione, in questo caso non si può cambiare ma dopo successivamente ci sarà la regione Italy. Andiamo un po' da vicino perché ho visto che non riuscite a vedere. Una volta si fa Next, qui vi farà decidere se detettare la connessione dalla porta One, scusate dalla porta One, oppure inserire voi manualmente i parametri, basta schiacciare su Dynamic, quindi Dynamic prende un indirizzo IP automatico dalla porta One, oppure statico PPPoE se avete Eolo e quant'altro. Fate Next, qui abbiamo username e password della PPPoE, ho selezionato l'unica che non dovevo mettere, in Dynamic non vengono richieste, qui dice se volete copiare il MAC address e qui dire se settare le varie configurazioni, quindi da 2,4 GHz e poi secondariamente la 5 GHz, potete anche per esempio disabilitarla, vedete com'è fluido il touchscreen? Vedete che è molto fluido. Facciamo Next, qui vi dà uno storico di quello che avete configurato e facciamo Save. Il Save si fa e infatti vedete che lui sta caricando le varie impostazioni. Eccolo qua, da Congratulation, Test Internet Connection, possiamo vedere se c'è realmente la connessione oppure facciamo clic su Finish. Quindi un quick setup, devo dire, davvero interessante. Abbiamo la possibilità di utilizzarlo come repeater, ora è già come router quindi non verrà vista questa funzione, oppure come Access Point. Nella funzionalità Access Point, la porta LAN che arriva dal vostro modem router dovete sempre inserirla nella porta WAN. Questa funzione è davvero molto utile perché evita tutti quei problemi legati alla NAT, quindi giocatori online e quant'altro. Poi abbiamo anche la funzionalità repeater. Abbiamo anche la possibilità di impostare una rete guest, sia su rete 2,4 GHz che 5 GHz. Abbiamo anche la possibilità di far scadere le password giornalmente, settimanalmente, mensilmente oppure mai. Abbiamo anche nella modalità guest network, la voce a rete, la possibilità sia per quanto riguarda la 2,4 GHz che la 5 GHz. Nella sezione wireless abbiamo la possibilità di configurare la regione, ora non è possibile. questa è la rete 2,4 GHz, spostiamo di qua, è la rete 5 GHz. Possiamo modificare la password, per esempio la modalità della password, WPA2PSK, oppure anche l'ampiazza del canale 40 MHz, oppure anche la trasmissione, se siete delle persone un po' green, e il canale wireless, no, scusate, il canale wireless dall'1 all'11, per quanto riguarda poi la regione italiana sarà fino al 13. Per quanto riguarda le funzioni avanzate, abbiamo le solite, l'intervallo DB con lo short GI e il WMM. Nella rete 5 GHz, siccome è una rete in tecnologia C, per esempio nella channel width abbiamo fino a 80 MHz e anche qua la possibilità di selezionare dei canali. che per quanto riguarda l'Italia saranno fino al 48, perché i successivi non ci sono, quindi se metterete dal 48 in poi i dispositivi non vedranno la rete wireless. Qui abbiamo il tasto di WPS, per esempio per configurare il range extender e quant'altro. Abbiamo anche la possibilità di DNS, purtroppo soltanto due, in DNS e no IP, questa è una pecca. Lo screen settings, qui possiamo andare a settare la luminosità, per esempio se l'aumentiamo chiaramente aumenta la luminosità, oppure possiamo anche diminuirla. Diciamo, io la tengo adesso magari non al massimo, perché se no non c'è contrasto e non vedete, magari la tengo così. Potete anche dare l'intervallo di screen saver, per esempio screen saver dopo un minuto. Dopo un minuto chiaramente si spegnerà il tast screen. Io metto 5 minutes, così evitiamo che si possa bloccare mentre sto facendo la recensione. Le regole di QS, si possono definire delle QS settings, per esempio dare tot megabit a un indirizzo IP, oppure darli tutti e destinarli per esempio altri soltanto alla rete guest, oppure possiamo lavorare non a livello di megabit, ma a livello di priorità di pacchetti. Allora, devo dire che qua per esempio possiamo modificare la password, l'amministratore da sistema, insomma le solite funzioni che sono disponibili sulla GUI normale, qui sono disponibili qui, qui possiamo fare un reboot, un reset e quant'altro. Ma io devo dire che adesso sarebbe ora di passare alle conclusioni di questo prodotto. Allora, io l'ho provato per circa due settimanine, vi dico che la resa wireless è davvero davvero molto buona, non ho avuto problemi di sorta, forse un attimino da ottimizzare, ma questo è un firmware ancora beta, da ottimizzare il comparto della gestione Ethernet, perché ho avuto qualche problemino sul gaming online, ma mettendo le modalità checkpoint si evita la NAT e quindi questi problemi non ci sono. Che dire, a livello di copertura wireless diciamo che possiamo dare un voto di 8, sicuramente un voto molto buono. Adesso ho intenzione di fare, per quanto riguarda ogni recensione, dare una valutazione. Io ho una casa da circa 200 metri quadri, non riesco comunque a coprirla tutta, ma devo dire che la stabilità del wireless è davvero molto buona. Niente, dai, per questo video credo di aver detto tutto, vi voglio far vedere ancora un attimino il prodotto a livello di design, guardate com'è fluido il touchscreen, davvero molto interessante, sicuramente un prodotto che è veramente una novità. Dalle Sanutech World è tutto, vi invito ad iscrivervi al canale, mettere un mi piace al video e condividetelo con più persone possibili. Ciao e al prossimo video!